Stavo leggendo un articolo su alcuni artisti che cantavano, perché sono stati fermati, cantavano di Brigate Ross, eccetera, eccetera, e sono stati in qualche modo fermati. Poi sono andato a finire a leggere dei testi di alcuni, non so come si chiamano, rapper, non ne capisco, sono vecchi queste cose, però quando sento dei ragazzi che cantano parlando di una ragazza, di una donna, gli tolgo il fondotinta con la forza degli schiaffi, ho un'altra che ora me la sono annotata lì, ecco, si chiama Gioia perché fa la troia, l'ho ammazzata, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera, questi vanno nelle televisioni a cantare di queste cose, io non ho una percezione artistica per dire questo è arte, queste parole sono arte, magari sono arte, è arte usare come si chiamano le iperbole, le metafore, no? Come cantavano e cantano tutt'ora, hanno cantato in passato altri gruppi politicamente impegnati. Oggi fanno, invece, se io mi mettessi oggi a cantare una canzone inneggiando a qualsiasi cosa cosa si rifacesse agli anni di piombo, probabilmente avrei pizzicato o in qualche modo redarguito. Fatelo perché intanto i testi li scrivo così come nei post, così, perché di queste persone che cantano deliberatamente, di ti prendo la tua donna, te la sbatto sulla macchina, e vieni, non ce l'ho, mi dispiace, per me che non ce l'ho, però, ma capite? E quando cantano questi ragazzini sono tutti sotto il palco, che probabilmente non ne capiscono una minchia dei testi, le persone, non li ascoltano, non danno il giusto peso alle parole, perché davvero, ma se io fossi con la mia ragazza sento un testo così, è come sei preso? Ti prendono schiaffi, ti prendono spaccio, fanno i video, come cavolo si chiama, le borse cariche di cash, negli anni 70, giravano le borse delle strumentazioni, pieni di ogni tipo di cosa, quindi non avete inventato niente, il problema è che quella era realtà, oggi invece è solo finzione, perché dopo che hai tanto cash, dopo che sei uno che spacca, che non ho capito ancora, spacchi cosa? Intanto, dove vivi? Che vita fai? Chi sei? Perché questa è la domanda che ti devi fare, che ti definisci artista, dun dun dun, due tracce, due cose, boom, social, due testi a casa, sono un artista, e cosa mi stai dicendo? In quei cinque canzoni che ascolti, i testi sempre quelli sono, prendono la donna, ti spago, ti prendono a schiaffi. Libertà all'epit 38 a sto punto.